Primo round tra Darius e Gamrot, non lo so chi l'ha vinto ragazzi ma che spettacolo, che goduria, tutto sto cambiamento di livelli, mosse e contromosse, c'è veramente un livello di MMA altissimo e vediamo se nello scorrere del match il vincitore emerge più palese. Nel secondo round improntato più che altro sullo striking Darius riesce a portare una maggiore quantità di colpi a gestire l'offensiva e quindi a mio avviso il secondo round va a lui 10-9. Terzo round un pochino più disteso rispetto agli altri due dove un po' lo sprint iniziale dei due si è fatto sentire alla fine abbassando il tenore però hanno continuato a scambiare e credo che se lo sia preso Darius perché ha piazzato anche un sinistro che ha messo giù Gamrot che poi si è riuscito a rialzare. Quindi se devo tirare le somme io do almeno due round a Darius e perciò la vittoria gliela assegno a lui ma stiamo a vedere che diano giudici. E anche i giudici sono dello stesso avviso perché assegnano la vittoria a Benel Darius per decisione unanime il quale prima di lasciare l'ottagono fa un bel discorso anche sull'Iran e sulla libertà probabilmente relativo a quello che sta passando nel suo paese in questo momento. Primo round tra Peter Jan e O'Malley i due non si studiano per niente è un round frenetico dove entrambi cercano di gestire l'iniziativa Jan mette un takedown e porta qualche colpo Sean O'Malley riesce a rialzarsi e porta a sua volta colpi in piedi. Quindi difficile da giudicare però per la confidence per l'iniziativa per anche lo switch nel Jiu Jitsu che a un certo punto Sean O'Malley ha preso la schiena sul finire del round di Peter Jan io il round io lo assegnerei 19 a lui. Secondo round c'è stato un capovolgimento di fronte bellissimo da parte di Peter Jan che subisce un sinistro potentissimo di O'Malley il quale tenta di affondare un KO e invece Peter Jan risponde con un altro sinistro altrettanto forte cambia il livello lo porta a terra e probabilmente si guadagna il round 10 a 9. Terzo round ragazzi Sean O'Malley pesta come l'uva la faccia di Peter Jan che comunque sia tenta di controllare l'offensiva e si mantiene sempre mobile cambiando il livello tentando sempre l'approccio a terra però O'Malley nei colpi è stato super preciso e ha portato dei danni incredibili. Secondo me è primo round O'Malley secondo round Peter Jan terzo round O'Malley però potrebbe essere qualsiasi cosa vediamo. Ed è una split decision in favore di Sean Sugar O'Malley ragazzi split decision che sicuramente farà discutere però se facciamo il complessivo del match il primo round è stato abbastanza interpretabile e sul finire O'Malley ha fatto bene il secondo round era certamente di Peter Jan il terzo round era certamente di Sean O'Malley. Quindi vittoria sul filo del rasoio ma vittoria a mio avviso meritata e adesso non faremo altro che aspettare di vedere se lo piazzeranno direttamente in una title shot perché comunque sia il tempo di maturazione con questo match penso che sia arrivato a quella soia lì e quindi diciamo il prodotto dell'UFC Sean O'Malley inizia a dare i suoi frutti. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti noi ci rivediamo fra breve un saluto da Italian Fight Magazine il più grande canale di MMA che parla italiano.